Chiara Flore, Assessora Comunale all'Agricoltura e al Verde Pubblico, oggi è una giornata ecologica, quali le finalità di questa iniziativa? Sì, allora abbiamo voluto noi amministratori scendere in campo insieme con i cittadini perché come giusto che sia per dare una mano veramente per pulire comunque la nostra città che credo amiamo tutti. Sono molto soddisfatta perché oggi è stato un segnale forte e una risposta importante da parte della nostra comunità, penso che in un momento comunque difficile come quello che stiamo vivendo, dico un po' tutte le amministrazioni con tanti tagli da parte comunque che stanno subendo un po' insomma agenti locali, poche risorse sia economiche che umane, è giusto dare una mano per la città. Avete pubblicato un avviso pubblico per l'affidamento delle rotonde, di alcuni sparti traffico, qual è stata la risposta dei cittadini? Sì, anche lì abbiamo deciso infatti di dare in adozione queste rotonde e questi sparti traffico, sono contenta della risposta da parte dei cittadini, stanno dimostrando veramente interessati sia per prendersi cura della propria città, per il decoro quindi della città, già da quando ho iniziato comunque a fare gli incontri con i commercianti è emersa questa voglia di collaborare per la propria città. Vorrei ringraziare chi oggi ci ha dato un supporto, molti cittadini sono venuti e ci hanno portato una cosa da bere, ci hanno dato il panini, veramente stanno rispondendo proprio bene a questa iniziativa e ci tengo veramente a ringraziare tutti.